benvenuto a tutti i video ascoltatori del canale youtube italia medievale oggi abbiamo l'enorme piacere di poter presentare un bellissimo saggio appena pubblicato da forum edizioni dal titolo le città italiane di fronte all'islam politica e diplomazia nel mediterraneo medievale di sandra origane origone scusate sono solo sono 164 pagine per 20 euro quindi in prezzo assolutamente abbordabile accessibile per un saggio davvero davvero interessante e abbiamo l'onore il piacere di avere con noi oggi la professoressa origone alla quale io come mia abitudine cedo subito la parola per non perdere tempo e permetterle di presentare questo lavoro prego professoressa a lei la ringrazio molto e ringrazio anche l'associazione italia medievale di quelle presidente per questo invito e che mi permette di parlare di un tema che io amo molto al quale ho dedicato molte della mia attività di ricerca e didattica che appunto è la storia del mediterraneo diciamo medievale ecco io in genere mi sono occupata soprattutto del mediterraneo in rapporto a bisanzio dei rapporti tra l'occidente e bisanzio però in questo libro ho diciamo fatto qualcosa di diverso da quello che era la mia abitudine e mi sono dedicata appunto al contatti fra le città italiane e l'islam ecco un argomento certamente diciamo intrigante e interessante che appunto devo anche dire è stato un po qualcosa di imprevisto nel senso che avrei questo argomento doveva essere nella materia diciamo di questo libro doveva essere inclusa come seconda parte di un volume che è uscito sulle città italiane le signore del mare e che però appunto mi sono accorta che nel corso della ricerca il materiale mi consentiva di fare uno scarto da quello che era il progetto originale nel progetto originale tutto questo materiale sarebbe stato coinvogliato in un discorso sull'espansione delle città italiane nel mediterraneo invece appunto qui ho voluto accentuare l'elemento l'elemento islamico perché ha un posto realmente prevalente e importante quindi c'è stato un po uno scarto da quella che era l'impostazione diciamo iniziale e pertanto appunto io devo dire che ho avviato il mio lavoro partendo da due premesse diciamo premesse storiografiche perché un discorso sull'islam prevede sempre che si faccia i conti con la navigazione nel mediterraneo e poi con l'altro tema importante che è quello del risveglio cittadino ecco risveglio delle città che sono poi due diciamo due argomenti strettamente legati e direi appunto che parlando della navigazione nel mediterraneo insomma non si può fare a meno di citare la grande opera di henry tiran che ormai diciamo uscita nel secolo scorso nel 1937 però ha avviato un dibattito che ancora oggi comunque viene continuamente diciamo riaperto rinnovato e comunque vengono fatte delle puntualizzazioni su questo argomento cioè la navigazione dell'alto medioevo sarebbe stata interrotta nel settimo secolo dall'irrompere appunto dei degli arabi nel mediterraneo questo è quello che pensa appunto che rappresenta la tesi di pirena tesi contestatissima e però sulla quale ancora oggi si portano delle puntualizzazioni tanto che si ritiene che non si possa certamente parlare di un arresto diciamo della dei contatti tra una costa e l'altra del mediterraneo tra il mediterraneo cristiano e il mediterraneo islamico forse non l'ho detto ma l'opera diciamo di pirena è maometto e carlo magno e diciamo si tende più che altro a pensare che si sia verificato un non tanto un arresto drammatico quanto piuttosto diciamo un declino della navigazione la navigazione diciamo non è non è più così non si sviluppa più su rotte ampie e ma la navigazione è una navigazione molto diciamo molto difficile tra le sponde del mediterraneo è difficile navigare comunque qualcosa un poco si naviga e comunque già nel secolo successivo già nel secolo decimo incomincia a riprendere diciamo si incomincia a riavviare nel secolo scusate nel secolo nono si comincia di nuovo a riprendere la navigazione si riprende una navigazione che una risposta innanzitutto militare all'islam ecco perché occorre proprio far fronte a questi nemici da un lato e dall'altro si incomincia anche pensiamo ad amalfi a commerciare appunto con gli stessi arabi quindi guerra punto dicevo che già nel secolo ottavo riprendono già scusate nel secolo nono riprende una una certa navigazione nel mediterraneo sia per contrastare con la guerra il l'avanzata islamica e sia anche per iniziare appunto una un certo quale una certa quale attività mercantile e le città quindi partecipano insomma le città italiane pensiamo prima di tutto ad amalfi a venezia ma poi via via anche genova pisa e così via incominciano diciamo a riprendere confidenza col mare e riprendono anche a risvegliarsi dal punto di vista economico e anche dal punto di vista istituzionale perché insomma con il secolo undici dodicesimo raggiungeranno anche la loro maturità istituzionale come comuni allora diciamo queste questi due presupposti storiografici sono importanti comunque per il discorso che facciamo e però appunto bisogna anche considerare appunto altri fatti cioè se noi parliamo di città se noi parliamo di di città ci spostiamo un pochettino di città e islam ci spostiamo un pochettino da quei grandi quadri del confronto fra due poli contrapposti quello islamico e quello cristiano no cioè ci spostiamo ecco in direzione di altre considerazioni cioè non consideriamo più un netto contrasto il rapporto tra fedeli ed infedeli che è indubbiamente diciamo un tema importante ma qui diciamo ci caliamo in una realtà direi minuti in una realtà più piccola in una realtà di contatti a un livello direi inferiore anche se bisogna dire che il rapporto poi tutto sommato il problema diciamo religioso è sempre sotteso ai rapporti tra il mondo islamico e il mondo cristiano perché però sono anche qui anche in questo caso sono dei rapporti quelli che noi abbiamo preso in considerazione sono rapporti un pochino diversi nel senso per esempio faccio un esempio per capirci e considero appunto una lettera del pontefice gregorio settimo gregorio settimo nel 1076 invia una lettera al principe della mauritania e lo gli rivolge delle parole di fratellanza diciamo che era consueto nelle nei rapporti ufficiali fa riferimento all'unico dio ecco e all'unico dio dell'islam e dei cristiani però insomma qui a un papa che fa riferimento a questo unico dio e rivolge parole di fratellanza a questo principe di mauritania e questo principe e probabilmente questa lettera è anche un preludio a quello che poi avverrà cioè una sorta di lega tra le città un'alleanza tra le città di genova e di pisa e anche appunto sotto legida del pontefice con questo principe di mauritania e viene per aiutarlo a sconfiggere il suo rivale temin e il quale rivale temin è un un nemico comune in quanto è amico dei normanni quindi vediamo proprio come se noi ci caliamo in questa realtà nella dinamica di questi rapporti ci accorgiamo proprio come la situazione sia estremamente complessa tema motivo religioso che però naturalmente è sempre presente ed è presente nelle preoccupazioni del pontefice cioè il pontefice è preoccupato per la salvezza dei cristiani che si trovano nei territori in questi territori islamici del nordafrica tanto per intendersi perché appunto sono soggetti anche a delle violenze sono soggetti anche a delle persecuzioni e dunque si preoccupa appunto anche per eventuali conversioni forzate ed è molto preoccupato diciamo per eventuali conversioni forzati e dunque diciamo anche a un certo punto si pone il problema di avere permesso per la costruzione di fortificazioni di fortezze dove i cristiani possano essere essere riparati da questo tipo di violenza e di aggressività e quindi diciamo che i problemi religiosi ci sono però sono problemi religiosi che vengono affrontati sempre diciamo sulla difensiva sempre per proteggere il le comunità cristiane che si trovano in questi territori e nella mia diciamo trattazione io ho parlato appunto soprattutto di un'area dunque veniamo a descrivere l'area in cui si sviluppano questi contatti è un'area diciamo che forma quasi una mezzaluna la costa diciamo meridionale del mediterraneo dalla penisola iberica sino alla costa del levante siriaco palestinese questa diciamo è l'area in cui si sviluppano questi rapporti e a cui su cui si sofferma la nostra attenzione poi direi che va la pena anche di indicare un diciamo una cronologia insomma il libro passa da una periodo cioè tratta anche di appunto periodi molto precoci il settimo secolo poi ci sono anche così dei 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 voli in direzione di secoli più tardi del medioevo però diciamo che il centro ecco del lavoro si si muove tra il secolo undicesimo e il secolo tredicesimo che sono i secoli diciamo in cui il mondo nord africano è sotto la grande influenza dei fatimidi dei fatimidi ed è quindi è sotto l'influenza fatimide e però appunto la parte nord africana è sotto delle dinastie si trova sotto dinastie berbere cioè dinastie autoctone che però appunto hanno abbracciato l'islam sono musulmane e diciamo questa questa area e poi appunto c'è la grande compagine fatimidi da iubide e così via ma ne parleremo di seguito un po' più avanti e quindi questo questo volume si sviluppa attraverso cinque medaglioni insomma sostanzialmente che sono le aree di interesse che sono ovviamente diverse l'una dall'altra presentano problemi diversi innanzitutto partendo appunto da occidente noi possiamo individuare appunto la Spagna la penisola iberica poi abbiamo l'area centrale del Maghreb e poi l'area appunto egiziana e del Levante e altre considerazioni e altri medaglioni riguardano la Sardegna, la Corsica, la Sicilia anzi prima e poi la Corsica e la Sardegna che sono le grandi isole del Mediterraneo. Naturalmente il mondo diciamo islamico non è presente nello stesso modo in tutte queste aree ci sono aree del Mediterraneo in cui l'islam è ancora ben presente e invece ci sono aree che poi sono tornate sotto la dominazione occidentale partiamo appunto dalla penisola iberica dirò solo per ciascuna di queste aree poche parole perché appunto la penisola iberica sappiamo tutti che è una diciamo l'area di un condominio, un lungo condominio tra islam e cristianità e diciamo pure che la cristianità riesce insomma ad avere la meglio soprattutto una volta che è caduto appunto il califato di Cordova siamo nel secolo X e quindi appunto si forma il potere e il dominio islamico si frammentarizza, si disperde nei regni di Taifas e quindi la riconquista può avvenire nel 1212 si ha una tappa molto importante nella riconquista con la battaglia di Lasnava di Torosa e la riduzione diciamo della Spagna islamica al regno di Granada ecco quindi diciamo un momento molto importante e poi diciamo ci sarà un proseguo insomma di storia di questi rapporti sino al 1492 come sappiamo quindi ecco in queste regioni le città italiane intervengono intervengono anche abbastanza presto sia con diciamo la loro iniziativa militare insomma nelle Baleari, Pisani, Almeria Tortosa e i Genovesi e sia anche con il tentativo di entrare in contatto dal punto di vista diplomatico con dei trattati per esempio quello del 1149 di Genova con il signore di Valenza e che permette di guadagnare ai genovesi due fondaci uno in Degna e l'altro in Valenza quindi c'è un interesse diciamo di questo tipo nella penisola iberica ma diciamo che le aree più importanti, più interessanti per le città italiane sono evidentemente quella del Nord Africa, il Nord Africa occidentale quindi quello che uno storico arabo Ibn Khaldun definisce proprio come l'Occidente, il Maghreb l'area del Maghreb che è un termine che indica qualunque cosa stia a Occidente di un'altra però ha anche un significato ben preciso per indicare le terre diciamo del Nord Africa che occupano diciamo l'area di questa regione dalla Tripoletania sino all'attuale Marocco quindi diciamo una regione questa che è molto importante per lo sviluppo della storia islamica è un'area che inizialmente appunto si trova sotto i Fatimidi quindi poi però l'influenza Fatimide viene così nell'undicesimo secolo viene accantonata perché questa zona tende diciamo politicamente a subire l'influenza soprattutto degli Abbassidi ancora diciamo questi strascichi dell'antico potere Abbasside e quindi è importante qui l'aspetto religioso poi in realtà perché i Fatimidi sono usciti e invece diciamo questa zona del Nord Ovest dell'Africa è caratterizzata appunto dall'obbedienza assumita quindi ci sono fenomeni appunto di questo tipo e prevalgono poi anche delle dinastie locali queste dinastie locali sono la dinastia Ziride e la dinastia degli Abbassidi degli Abbassidi sono molto importanti proprio per i contatti col mondo occidentale perché con le città italiane perché intessono una quantità enorme di rapporti con città soprattutto con Pisa, con Venezia e anche con Genova e in questa diciamo regione ci sono tre punti di attacco tre città che sono molto importanti per il commercio che sono nel Marocco Ceuta poi in Algeria Bugea Bejaia oggi e poi Tunisi questi sono i tre punti in cui troviamo diciamo proprio dalla vastità degli atti notarili soprattutto genovesi e comunque veneziani troviamo appunto presenze di questi mercanti occidentali in queste aree e quindi questa è una zona di particolare significato e particolare significato assume anche l'avamposto di Ceuta proprio perché controlla, permette di controllare lo stretto di Gibilterra e anche la stessa Gibilterra sono due città che vengono molto contese però diciamo i genovesi riescono a impossessarsi di Ceuta per circa due anni ma la Perdomo Ceuta poi andrà sotto i merini di un'ulteriore dinastia Berbera e invece appunto Gibilterra verrà inglobata nel regno di Granada quindi c'è una complessità di rapporti sulla quale non posso dilungarmi che è veramente enorme e ci sono queste presenze mercantili comunque che possiamo seguire su una vasta documentazione il punto poi centrale ovviamente è l'Egitto insomma l'Egitto è un punto importantissimo e bisogna dire che le città italiane entrano precocemente in rapporto già nel secolo X con l'Egitto sono Amalfi, sono Venezia e poi in un proseguo di tempo anche Genova e Pisa quindi insomma si ha una presenza notevole una presenza notevole che in qualche misura si collega però ai precedenti rapporti che Bisanzio l'impero bizantino aveva con i Fatimidi e tutta una serie di situazioni che ci parlano appunto dei commerci diciamo di queste comunità occidentali in Egitto diciamo anche qui esiste una documentazione che è rappresentata dai documenti della Genizia del Cairo e questa presenza è guidata quasi proprio da Bisanzio dal momento che tutti questi occidentali vengono proprio indicati come Romei come bizantini ecco quindi diciamo c'è una comunità cristiana ecco che agisce al Cairo e soprattutto agisce intorno appunto alla comunità ebraica del Cairo poi diciamo che appunto però è importante appunto vedere come l'Egitto si trovi appunto a partire dal 969 cioè dal secolo X si trova sotto la dominazione Fatimida e diciamo i Fatimidi vengono poi come dire così allontanati dalla dinastia Iubede che è la dinastia appunto di Saladino ecco e questa dinastia di Saladino diciamo che il personaggio di Saladino è un personaggio sul quale noi possiamo soffermarci un attimo nel senso che Saladino è considerato appunto come il vincitore per eccellenza se vogliamo in quanto ci sono poi così nelle cronache delle frasi degli epiteti nei suoi confronti è considerato come il Lumen Legum quindi è colui il legislatore per eccellenza ed è considerato come il Rex della milizia saracena ecco dell'esercito saraceno quindi diciamo che è un personaggio su cui esiste molta enfasi in realtà Saladino è un personaggio che deve deve lottare deve lottare molto perché è venuto al potere prendendo il posto era inizialmente era vizir aveva ereditato la carica di vizir da suo zio Shirkuk che poi era diventato appunto aveva preso il posto del califo Fatimida e quindi è chiaro che nei suoi confronti ci fosse una una grande diciamo una grande diffidenza da parte dell'elemento Fatimida ancora presente e poi Saladino si impadronisce insomma dell'Egitto nel 1171 e nel 1174 si impadronisce anche della Siria dove invece c'erano già tutti gli insediamenti crociati e quindi Saladino ha anche questo impegno insomma molto forte e questa resistenza da parte dei crociati e tutto ciò lo rende all'inizio molto come dire molto molto guardingo e ha bisogno insomma di trovarsi degli alleati e gli alleati che trova sono appunto i pisani i pisani sono molto vicini a Saladino ottengono infatti nel 1173 un trattato da lui che ci dice tante cose perché insomma sostanzialmente Saladino ha perdonato i pisani di essere stati gli amici dei suoi predecessori e conferisce loro nuovi privilegi nel suo stato quindi è molto importante questo accordo tra Saladino e Pisani e poi Saladino è anche molto amico dei veneziani veneziani che hanno una fortuna notevole non soltanto in Egitto ma anche poi otterranno appunto dei privilegi questo nella prima metà del secolo XIII in Aleppo quindi diciamo che appunto veneziani i pisani sono molto avvantaggiati assai meno avvantaggiati sono i genovesi i genovesi sono più vicini all'elemento crociato ecco e quindi i genovesi probabilmente avevano un insediamento perlomeno abbiamo un unico documento che ci parla dell'esistenza di un fondaco genovese in Alessandria nel 1200 proprio nel 1200 però questo insediamento diciamo è poca cosa e non ha continuità perché proprio possiamo seguire l'andamento dei traffici e ci accorgiamo che c'è un crollo un vero e proprio crollo nell'epoca che stiamo considerando dei traffici con l'Egitto dei traffici genovesi con l'Egitto che non migliorano insomma sino al 1290 quando i genovesi riusciranno a stipulare un trattato con i mamme Lucchi ormai la la dinastia successiva a quella aiubide di Saladino e sì perché appunto i genovesi tutto sommato sono vicini al mondo delle crociate non dimentichiamo che partecipano comunque alle crociate del 200 alle crociate di Luigi Luigi IX quindi questo li rende poco graditi all'elemento musulmano e soltanto appunto quindi alla fine del 200 abbiamo questo trattato quello che però bisogna credo sottolineare soprattutto è il fatto che noi appunto io in particolare in questo lavoro ho seguito la dinamica dei rapporti diciamo diplomatici però però non c'erano soltanto i rapporti ufficiali ecco questo va detto c'erano anche i rapporti che avvenivano tra mercanti che avevano una particolare entratura in un determinato paese che erano graditi insomma ai potenti diciamo dei paesi islamici che partecipavano poi che erano sempre presenti diciamo in questi paesi e partecipavano ai traffici e qui voglio ricordare perché è un bel esempio che appunto sappiamo di un genovese ruggerone che aveva dei una grande amicizia nei confronti del fratello di Saladino Aladil aveva un rapporto di amicizia e anche proprio rapporti di affari cosicché appunto interviene proprio per salvare un carico di allume del fratello di Saladino un carico diciamo di allume in Provenza quindi diciamo che non ci sono le relazioni ufficiali però ci sono anche queste relazioni molto particolari e molto legate proprio all'iniziativa degli individui poi direi appunto che si può dire velocemente se ho tempo qualche parola appunto sulla Sicilia insomma la Sicilia viene conquistata nel 827 dai 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 musulmani dagli aglabiti che provengono dall'Africa e poi diciamo rimarranno la loro dominazione in Sicilia durerà sino al secolo XI sino a quando non arriveranno i normanni ecco direi che è importante vedere un fatto cioè che sotto la dinastia Calvita incominciano proprio a intavolarsi dei rapporti molto frequenti dei rapporti commerciali con Pisa e con Amalfi ecco e bisogna anche qui ricordare una diciamo un problema storiografico discusso dalla storiografia che è appunto stato sollevato da Michele Amari e Michele Amari aveva diciamo sottolineato proprio la positività della dominazione diciamo della dominazione araba in Sicilia in quanto gli arabi avrebbero portato in Sicilia una capacità mercantile una capacità imprenditoriale che era del tutto estranea nel periodo precedente bizantino ora questa diciamo che Amari si è distinto proprio per una grande simpatia per il mondo arabo a scapito di quello bizantino oggi si tende anche da parte degli archeologi a contestare ecco questa visione troppo ottimistica nel senso che viene appunto evidenziata anche la gravità delle distruzioni degli ecidi compiuti appunto dagli islamici in Sicilia però diciamo certamente diciamo la loro imprenditorialità è un fatto diciamo reale è un fatto che sussiste poi diciamo appunto che possiamo parlare della Sardegna e della Corsica ecco poche parole anche per questo settore Sardegna e Corsica rappresentano un po' il confine diciamo occidentale di Bisanzio un confine e le nostre notizie riguardano soprattutto però la Sardegna e un confine difficile da difendere per la lontananza proprio all'estremo del Mediterraneo i bizantini avevano riconquistato appunto la Sardegna e la Corsica togliendola appunto ai vandali nella guerra vandalica e poi appunto avevano ottenuto queste isole però che nel 680 incominciano ad essere così colpite proprio dagli islamici e pertanto appunto questa è una storia proprio di lotta continua tra i due mondi e però appunto diciamo i bizantini qui si impegnano molto in Sicilia in Sardegna scusate si impegnano molto soprattutto appunto fino all'ottavo secolo sono impegnati nella difesa insomma di questa zona e poi per quanto riguarda la Corsica ecco la Corsica esce un po' panorama dal panorama bizantino e è più che altro oggetto di attenzione da parte dei Longobardi e poi da parte dei Franchi e però appunto diciamo tanto la Sardegna quanto la Corsica sono fatte oggetto diciamo dell'attenzione del pontefice ed è il pontefice sostanzialmente che sostiene ecco le le città italiane le città tirreniche Pisa e Genova nella così nella difesa fino all'indicesimo secolo si combatte diciamo proprio per la difesa della Sardegna dall'Islam e non so dagli arabi e non solo ma la colonizzazione la prima colonizzazione di queste due isole è una colonizzazione di tipo monastico cioè ci sono insediamenti dei monasteri diciamo dei monasteri genovesi e pisani che appunto iniziano una colonizzazione dei territori proprio in funzione di creare un baluardo contro l'avanzata islamica e diciamo anche che fatto questo giro insomma così per il Mediterraneo ecco che io mi posso diciamo soffermare ora su insomma su quelli che sono i contatti e gli interessi che dominano in queste in queste aree intanto appunto come già ho accennato io mi sono soffermata ecco sulla documentazione di carattere diplomatistico ed è una documentazione molto ricca ma anche molto complessa da un lato perché mancano delle edizioni critiche e si lavora appunto su anche su traduzioni ed è un diciamo un discorso abbastanza difficile quello che riguarda la documentazione diplomatistica perché perché non è una documentazione mai uniforme cioè noi abbiamo per esempio un atto che ci parla proprio del momento finale delle negoziazioni nel momento in cui una negoziazione viene ratificata però alle volte non abbiamo questi atti diciamo finali di ratifica o perché non c'è stata una ratifica o perché li abbiamo perduti e allora in quel caso lì diciamo abbiamo degli atti preliminari possono essere per esempio le istruzioni agli ambasciatori non sappiamo se poi queste istruzioni sono effettivamente andate in porto o meno quindi diciamo ci si muove su un terreno molto scivoloso insomma da questo punto di vista però diciamo che l'interesse di questi documenti è notevole è un interesse appunto notevole che direi appunto riguarda poi diverse diversi temi perché generalmente qui sta facendo un discorso diciamo generale non mi soffermo su questo su quel negoziato però diciamo che appunto gli argomenti sono argomenti interessanti perché innanzitutto appunto abbiamo notizie che riguardano il fondaco ecco il fondaco è il possesso il bene che viene concesso a queste città affinché appunto i mercanti abbiano un luogo dove risiedere e dove tenere appunto anche le loro merci e quindi è un punto molto importante il fondaco il fondaco non è un quartiere come non so quelli delle città italiane Costantinopoli è una è una struttura molto più molto meno complessa molto meno ampia ed è diciamo caratterizzata da la possibilità di alloggio per i mercanti e la possibilità di alloggio per per gli animali e poi contiene anche delle aree diciamo delle la possibilità di di tenervi di custodirvi le merci importante per esempio è la la mescita del vino perché diciamo si raccomanda che la mescita del vino avvenga diciamo non sul limitare sulla porta del fondaco ma verso l'interno proprio per evitare di 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 invitare gli islamici a compiere un atto che è contrario alla loro religione ecco il fondaco direi che ecco una cosa che a me colpisce molto è il fatto che mentre appunto quando si parla di fondaci latini si parla diciamo si cerca di capire dove sono collocati si danno insomma delle informazioni sulla collocazione dell'insediamento ecco che quasi mai questo avviene nei documenti islamici l'unico caso che ho trovato è quello appunto di documenti diciamo veneziani per Alessandria Alessandria d'Egitto là dove appunto viene indicato che il fondaco si trova nella zona del del mercato ecco e questa è già un'indicazione ma non vengono mai date delle indicazioni mai sulla collocazione di questi fondaci l'unica cosa che possiamo dire è che c'erano fondaci nei territori islamici quando poi il territorio islamico diciamo quando poi la dominazione islamica viene cacciata ecco che il potere cristiano concede un fondaco però non è mai collocato nella posizione di quello precedente questo avviene per esempio per Mallorca nel 200 avviene per Siviglia cioè si hanno appunto viene concesso un fondaco ma non nella medesima zona altro aspetto che è importante nei documenti scusate accanto appunto al fondaco è importante però anche per l'attività dei mercanti è importante anche la dogana la dogana è un luogo dove si tengono le merci dove le nazioni hanno i vari diciamo città hanno dei propri magazzini e hanno delle chiavi di questi magazzini questi in queste dogane però sono gestite dal potere islamico ci sono dei funzionari di queste dogane a cui vengono pagati i corrispettivi diciamo delle imposte di commercio che in genere sono su 10 anche 12 in qualche caso per cento del valore delle merci o anche meno in altri casi e diciamo questi questi ufficiali di dogana hanno anche un interessante ruolo per esempio lo prendiamo per i pisani per esempio in un caso hanno il controllo delle operazioni della messa in secca delle imbarcazioni cioè i pisani ottengono di poter mettere le proprie navi in secca e diciamo sono i funzionari della dogana che si occupano appunto di stabilire quanto viene dovuto per queste operazioni insomma sono predisposti hanno competenza su questo tipo di operazioni in genere invece le navi vengono tenute vengono tenute in rada perché è raro che diciamo le navi si avvicinino sono stanno in rada pronte eventualmente qualora possano nascere degli incidenti sono pronte ad allontanarsi e questo è un aspetto diciamo importante e proprio è importante anche vedere come fin dall'inizio fin dai primi contatti anche con gli amiri della penisola iberica venga fuori l'esigenza del rispetto dei beni del naufrago della diciamo sicurezza della navigazione che questo è molto importante rispetto dei beni e della persona insomma del naufrago e anche il diciamo il controllo della navigazione e per lo più appunto viene stabilito che chi si avvicina alla costa di un paese islamico comunque debba essere così garantito nella nella sicurezza delle imbarcazioni delle persone e così via quindi è molto importante è un'impellenza forte quella di della sicurezza e diciamo che poi certamente importante è anche il riferimento alle merci ecco le merci sono importantissime qui facciamo una un breve escurso su questo argomento perché noi dobbiamo pensare per esempio al fatto al Maghreb il Maghreb riceve dall'occidente tante merci perché diciamo dalla penisola iberica riceve sete riceve frutta secca riceve anche spezie riceve olio riceve vino ecco quindi c'è un movimento diciamo tra la Spagna la penisola iberica e il Maghreb e il Maghreb a sua volta produce cuoie e pellami e quindi diciamo che vengono esportati e poi appunto importante per esempio l'importazione in Maghreb del sale e del grano siciliano e dell'argento e delle miniere argentifiche di Sardegna quindi c'è tutto un movimento molto importante c'è la questione dell'oro insomma che è una questione abbastanza complessa perché l'oro ovviamente viene esportato dai paesi africani l'oro nel XII secolo si ha questo così fenomeno dell'oro di pagliola di questo polvere d'oro che viene esportato forse probabilmente dai genovesi e dai porti diciamo dei porti del Marocco sa fissale e così via e vengono diciamo esportate questo oro viene portato a Genova e però è poi appunto diciamo utilizzato variamente e però appunto il mondo nordafricano l'oro poi segue anche delle non solo la via diciamo marittima ma la via caravaniera attraverso le quali si raggiunge attraverso queste vie si raggiunge la costa nordafricana però l'aspetto diciamo interessante del commercio dell'oro è che anche l'oro veniva esportato ma anche reimportato cioè veniva reimportato soprattutto sotto forma di oro lavorato quindi fili d'oro quindi oro in lingotti e così via quindi diciamo che il traffico dell'oro che coinvolge ovviamente anche l'Egitto è un traffico molto diciamo anche complesso da seguire e diciamo accanto appunto all'oro che viene esportato insomma si hanno questi materiali importanti l'Egitto l'Egitto ovviamente diciamo esporta molto esporta e importa pietre preziose spezie ma diciamo che è soprattutto un mercato di importazione di quelle merci famose proibite che sono il legname che sono gli schiavi che è il ferro ecco che sono materiali che i cristiani non avrebbero dovuto esportare appunto c'erano proibizioni diciamo sull'esportazione di queste merci che agiziani ovviamente servivano per la guerra e però appunto questo avviene e addirittura nel trattato di Saladino del 1173 proprio viene specificato molto chiaramente in genere è un argomento di cui si parla nei trattati ma in maniera abbastanza così generale generica invece qui abbiamo proprio un riferimento preciso una condizione sine qua non per l'esecuzione per la messa diciamo in atto di questo trattato cioè il fatto che vengano che Saladino possa essere rifornito ecco di questi di questi prodotti di queste merci uomini che sono importanti ecco e quindi diciamo che questo è un po' il sistema diciamo il sistema economico che si è creato ecco però quello che io vorrei anche sottolineare in chiusura perché ormai ci siamo vorrei appunto dire questo che diciamo c'è un mondo mercantile che supera poi sostanzialmente quelle che sono le divisioni le fratture e i contrasti continui che poi si verificano d'altra parte i mercanti sono anche spesso litigiosi e in questa diciamo in questo contesto appunto vediamo delinearsi una società che è una società esattamente come quella mercantile occidentale impostata appunto sulle città sono le città e d'altra parte i musulmani fondano città perché fondano Bugea fondano Gibraltar insomma i musulmani sono legati appunto all'ambiente cittadino e l'ambiente appunto mercantile come dicevo è un ambiente dove esistono delle regole che sono regole di mercanti tra mercanti insomma indipendentemente dalla fede praticata penso in particolare a una a un riferimento al testo di un grande mercante a una pratica della mercatura quella di Francesco Balducci Pegolotti Francesco Balducci Pegolotti dice che l'oro si può portare tranquillamente nascondendoselo addosso a differenza dell'argento che è più diciamo più voluminoso e però appunto chi il mercante che frodi in questo modo non viene neanche diciamo punito in modo particolare perché la punizione sta nel fatto che perde la credibilità sul mercato e questo è un pochettino diciamo l'etica del mercante è un'etica che vale su queste piazze proprio indipendentemente poi dalla dalla fede religiosa che si segua grazie bene direi davvero interessante anche perché apre orizzonti non sempre esplorati su quelle che sono i rapporti e i commerci tra le sponde occidentali e orientali del Mediterraneo io ricordo il titolo del libro che le città italiane di fronte all'Islam politica e diplomazia nel Mediterraneo medievale di Sandra Origone pubblicato da forum edizioni da pochissimo 164 pagine 20 euro quindi compratelo perché scoprirete tante cose delle quali siamo debitrici ancora oggi nel nostro mondo moderno e ringrazio tantissimo la professoressa Origone per aver presentato questo interessante saggio vi ricordo di seguire Italia Medievale sul nostro sito www.italiamedievale.org e dove troverete ovviamente tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in questo purtroppo lunghissimo anno di pandemia quindi grazie ancora professoressa e a presto grazie a lei arrivederci grazie a lei grazie a lei mobili serve trip sempre giocare Grazie a tutti.